82 Fizik e 78 Pace Questo è una falsa Sì, è la più rapida del mondo Sono venuto 78 Pace Questo è una falsa Vi chiedo Chi può essere questo giocatore? Tom Mori Tom, sicuro Tutti sicuri per Tom Mori? Sì, sì Andiamo a vedere se è lui Che parliamo di Tom Mori Oh! 82 è lato Quindi sei felice con questo? Più o meno Sì, sì Sì, è meglio Sì, sì A vedere come sta questa 82 Fizik No, daria 85 Ghegate 86 È bene È bene È bene E tu crei che devi avere un Un po' più Una media di quanto? No, è bene Uno più Tu sei la FIFA, quindi dovresti sapere che tutti questo Credo che deve essere un tipo di giocatore Non di giocatore Credo che può essere pensato Cosa pensi? Sì Pagano troppo per Alex Non c'è la possibilità Definitivamente Teo, qui abbiamo coperti il tuo overall Velocità, tiro e passaggio Secondo voi quanto veloce? 83 87 83 85 93 Ah Quanto può avere di passaggio secondo te, Sandro? 35 36 Allora 8 pitch Allora 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 Quattro È defence 86 Allora 45 Sì. Credo che siamo d'accordo che è Jiménez. Jiménez. Marco. Perché è molto completo. La carta è Marco. Questa carta sarà cara. Può essere tu. Può essere Bernardo. Può essere Bernardo. Può essere Bernardo o tu. Può essere io o Bernardo. Può essere io o Bernardo. Ma penso che sia troppo rapido per Bernardo. Può essere io o Bernardo. Può essere il Stocco di Iniesta. Credo che sia io. Sì. 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 Grealish. 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 Oh. We didn't mention. Wow. 83. 84. Fernandes ha 84. Tu hai il mio. Tu hai il mio. Tu hai il mio. Tu hai il mio. Grazie. Un 80 shot. Alex. Fernandinho. 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 No. I think Fernandinho physically has got to be stronger than that. No. But... We're gonna go Bernardo. Then. Benardo? Benardo? No, we're so bad. We don't know our team. We're so bad. We're so bad. We're so bad. Let's do that again? We do that. He's new in the team. So, that's a lie. Vini, cominciamo contigo. Tienes l'item. Abbiamo fatto prima il ritmo. Che puntuazione dovremmo mettere? 90 e qualcosa, no? Vini, vuela. Vini, vuela. 94? Venga, 94. Passiamo con Disparo. Stava enchufato questo anno. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Stava bene, stava bene. Ora, 95. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Io sono 90. 90? 90, sì. 90? Stava bene. 90? Stava bene. Venga, venga, con 90. Il passiamo, come va? 84. 84, sì. Vini, non ti chezzate, puntuazioni. Stava bene. Stava bene. Non è possibile. Non è possibile. What are you complaining about? Il mio figlio è più veloce che 39. Dai, dammi, dammi. Cosa dice? Così, vuela. Eh, va, 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 va. È meglio, è meglio, è meglio. Questo è io? Sì. Sì. Penso che è Riyad. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Stava bene. Non è io, non è io. Ok, abbiamo dopo il regate. 92, 93? Non so. 90. Allora, puoi insegnare come va. 90 in regate. E ora, defensa. Allora, poco. 80. Allora, va a bajar. 80. 80. Allora, lo meto de central y todo. 30. Sì, por ahí. 30, 35. Venga, aquí 80 era bajo. No. Venga, y de físico? Está yendo al gimnasio. Se le ve fuerte. Está fuerte, la verdad. 80. 80. No, mucho, no? 72. 72. 72. Joder, va a bajar. 72, vale. Es carta... Es toti, vamos. General, ¿en qué se quedaría? 82 altos, no? 87. 87. 67. 87 en el general. 86. 86, vale. Puedes coger el maletín. Es tu ítem con los nuevos ratings. TANANANAN. Oh, isn't he? Surprised with that rating. Sorted me out well this year. 93 pass. I think that's you, Kevin. No, no, it's got to be. 93 pass. 76 pace. I know. Do you know if club's quick? Yeah, do you know if club's quick? It'll be in the 80s at least. I'm just saying that, if you're in the 80s. There's got to be in the 80s. Yeah, we'll be in the 80s. Sì. Ha dovuto essere te, non è? Sì. Qui si è? E' un ottimo ragazzo. Si tratta. Sono felice. Come sempre. Ti piace? Ti piace la foto? Venga, cominciamo con ritmo. Che zancada. 90? 90, sì. Si che sois buoni compagni, eh? Madre mia. Come va con Disparo? Disparo... Se le complica un po'. Si. 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 65. 65? Si. Si ha pegato un tiro a entreno. 70. Pase, saca bien el balón desde detrás. Los centros no... Esa es así, no? No te dà centro, no... No lo he terminado. No lo he terminado contigo. Lo... Lo ocho. No, pase bien, pase bien. Pase bien. Pase bien. Eh... un 80. Sí, 80. 80. Venga, continuamos. Regate. 50. Pero es brasileño. ¿Tiene cositas o no? No, no lo quiero. Cositas malas. Para defender. Para defender. Cositas para defender. 50. Venga, defensa. Aquí ya... Aquí nos vamos arriba. 92. ¿Tú lo ves bien? Sí. ¿Y un poco más también o qué? 95. 95. 95, venga. 95. Y de físico... Sí, eh? Tengo pocos. Un poco. Es que hacer un poco más de jim, eh? Pero... Me voy como 85. 85. Está bien, entonces. Fuerte, eh? Fuerte. Fuerte. En el general, ¿qué se quedaría? Mediendo a Vini, 80... 83, ahí. Vale, pues puedes coger el maletín. Y descubrimos ya tus nuevos ratings. Enseñalo.